Dopo l'intervista rilasciata ieri sull'andamento epidemiologico nelle Marche, oggi il governatore è tornato a tranquillizzare, in particolare, chi lavora nel settore del turismo. Questa mattina, scritto in un post pubblicato su Facebook, sono stato raggiunto dalle telefonate allarmate degli operatori turistici, che dopo gli articoli di ieri stanno registrando molteplici disdette con conseguenti riscossioni di caparre. Io, aggiunto a Quaroli, invito tutti ad essere attenti nel dare le informazioni perché vorrei si evitassero danni economici ingenti a causa di una diffusione non veritiera dei dati inerenti alla pandemia. Il rischio di ritorno in zona cialla per ragione Marche è in questo momento assolutamente infondato. I numeri che ci consegnano i servizi statistici e che sono previsti dalla normativa nazionale sono chiari. Se per il ritorno in zona cialla occorrono 50 positivi settimanali su 100.000 abitanti e se la media nazionale è di 11, noi siamo a 14, una distanza di sicurezza che in questo momento esclude questa ipotesi. Facciamo attenzione, ha proseguito il Presidente, perché nessuno vuole apparire superficiale davanti alla gestione di questa crisi sanitaria, ma classificare una regione come potenzialmente a rischio per una differenza di circa 4 positivi settimanali non sembra prevenzione, quanto piuttosto un allarmismo ingiustificato. Ci pare addirittura controproducente perché andiamo a limitare e potenzialmente interdire la possibilità di ripresa che invece sarebbe possibile non solo per i numeri, ma per una stagione che tutti noi aspettavamo, aspettiamo con ansia per poter appunto consentire a chi è stato chiuso oggi di lavorare e rimettere in sicurezza le proprie attività. A fare alcune precisazioni oggi è stato anche il Vice Presidente e Assessore al Commercio Mirko Carloni. Non vorrei che qualcuno tentasse di danneggiare i nostri alberghi, la nostra costa per favorire altri territori dando questa notizia. Ci vuole la massima prudenza, bisogna rispettare le regole, soprattutto il distanziamento sociale. Non sottovalutiamo i rischi che ci sono in questo momento, però dall'altra parte come Assessore al Commercio mi sento di dire che si sta davvero esagerando nel comunicare un'immagine della regione Marche che non corrisponde alla realtà. Quindi sperando di fare una cosa utile, credo che in questo momento si possa tranquillamente ribadire che la regione Marche non rischia di diventare zona gialla.